Guardandolo solo dall'aspetto, i colori, quello che portava, le scarpe, un po' di abito, il capo. Quindi la linea era riuscita a prendere il cappellino verde? Il cappellino verde è già buono. Il cappellino verde è quello che abbiamo trovato documentato, non sempre il cappellino verde, però anche la forma.